Consigliere Pignoli, siamo in via Riosparto, nella palazzina dove altre volte eravamo venuti a fare dei servizi perché ci sono dei problemi, gli inquilini, i residenti sono a questo punto esasperati. Ma la situazione è veramente esasperante, che sono persone anziane che da un anno sono costrette a scendere con la barella della Croce Rossa qui su un palazzo dell'Ater, che ovviamente sentiamo promesse su promesse, adesso incomincio il lavoro, adesso incomincio il lavoro, adesso incomincio il lavoro, ma il lavoro non incomincio. Come vedete, alle vostre spalle ho fatto montare una tenda, starò lì fino a quando quelli dell'Ater non verranno qui a rassicurare i cittadini per il grave problema che ormai vivono da anni e la situazione è veramente incresciosa. Voi vivete qui nel via Riosparto, in questa palazzina dove non funziona un ascensore, ci sono delle persone malate, immobilizzate? Sono morte, tre persone sono morte per questo motivo qua, perché se le scarpe non ce la facevano. Mamma ha il quarto piano, ha 84 anni, papà ha 85, è andato a capire. Noi stiamo allo sesto piano, noi stiamo allo sesto piano, ne imbozza, ne diciamo anche l'appartamento perché non ci sta più là sopra, la valla pizziuna va, la valla sopra. Cosa vi hanno detto per questo ascensore, perché non viene riparato? A me proprio l'ingegnere Morelli mi ha detto che sarebbe venuto il primo febbraio a fare i lavori e non è mai venuto, il primo marzo. Ha messo i bidoni, mi ha tolto i bidoni, mi metto io allungato per terra, deve arrivare qualcuno. Mi allungo per terra, 5 minuti mi allungo, c'è proprio bene questo problema. Ma non è la giusta, è la giusta causa però.